Domenica il Giuliano all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Colombo deciso a schierare Mora nel suo ruolo naturale, quello rimezzala. Dunque assai verosimile il ritorno al 4-3-2-1 con Merola e Rafià alle spalle di uno tra Vergani favorito all'Escano. L'opzione Mora trequartista significherebbe decentrare Rafià, non il massimo per le peculiarità del franco tunisino assai più incline a giocare tra le linee. Lo stesso Mora dovrebbe adattarsi a ricoprire un ruolo non esattamente congeniale alle sue caratteristiche. Al limite l'ex SPAL centrale in una mediana 2, ma in questo momento non sarebbe semplice rinunciare ad uno tra Craia e Giabua. E allora meglio tornare al già collaudato e conosciuto centrocampo a tre. Ancora out De Sogus tornerà invece a disposizione in grosso, ma nel cuore della difesa appare scontata la conferma della coppia Brosco-Bobben. Giuliano reduce da due sconfitte consecutive in classifica la matricola campana, occupa la dodicesima posizione con 34 punti. Certa la defezione causa infortunio di De Rosa, in compenso rientra l'italo-brasiliano Gladestoni. L'ex è Gennaro Scognamiglio, 36 anni il prossimo 24 aprile, arrivato a gennaio dall'Avellino. Sistema di gioco 3-5-2. Ad oggi nessuna svolta, i problemi restano. Pescara dai due volti. A dirlo sono soprattutto i numeri che non mentono mai. Ben 35 i punti conquistati nelle prime 14 giornate, appena 12 nelle successive 13. Progressi nella fase difensiva. In quattro delle ultime cinque gare i Biancazzurri non hanno subito reti. Per contro però in sei delle ultime nove giornate zero gol realizzati. E' accaduto contro Picerno, Avellino, Crotone, Foggia, Monterosi e Andrea. Del resto, per segnare, bisogna produrre occasioni. Per creare occasioni c'è necessità di uno spartito, di un'idea di gioco. Se non c'è, si fa fatica. Insomma, problemi risolti, bisogna fare presto. Le rivali si avvicinano. Terzo posto non più al sicuro. A sei punti il Cerignola, che sabato 25 febbraio ospiterà proprio i Biancazzurri.